Chi di voi potrà essere il primo? Il figlio dell'uomo è venuto a servire, a dare la vita, la vita per tutti. Chi di voi potrà essere il primo? Si faccia servo di tutti, servo di tutti. Il figlio dell'uomo è venuto a salvare, a dare al mondo speranza e gioia. Chi di voi potrà essere il primo? Si faccia servo di tutti, servo di tutti. Sarete beati se seguite il mio esempio e fate le cose che ho fatto per voi. Chi di voi potrà essere il primo? Si faccia servo di tutti, servo di tutti.